Il presidente della BCE, Christine Lagarde, ha detto che le misure di politica monetaria adottate dalla BCE a marzo sono state fondamentali per eliminare il rischio di coda legato alla pandemia di Covid-19 e il conseguente rischio che il calo dell'attività economica si trasformasse in una crisi finanziaria. Da marzo tale rischio è diminuito sostanzialmente. La Next Generation EU è importantissima. Non dobbiamo dimenticare che è la più grande emissione sovranazionale in euro mai annunciata, che associata alla proposta potrebbe anche avere un impatto positivo sul ruolo internazionale dell'euro. Sarà importante adottare rapidamente questo pacchetto. Secondo il rapporto ISTAT-IS, il numero massimo dei casi di coronavirus segnalati in Italia risulta nel mese di marzo, quando ci sono stati 113.011 malati. Il 20 marzo è stato raggiunto il picco massimo della pandemia in Italia, con 6.106 casi. Dopo quella data il numero, fortunatamente, è cominciato a diminuire. Dopo che ce li hanno imposti, li abbiamo dovuti cercare ovunque e in tutta Italia sono quasi introvabili, l'Organizzazione Mondiale della Sanità scoraggia l'uso dei guanti da parte delle persone in comunità. L'uso di guanti può infatti aumentare il rischio di infezione dal momento che può portare alla autocontaminazione o alla trasmissione ad altri quando si toccano le superfici contaminate e quindi il viso. Pertanto, in luoghi pubblici come i supermercati, oltre al distanziamento fisico, l'OMS raccomanda l'installazione di distributori di gel igienizzante per le mani all'ingresso e all'uscita. Le denunce per maltrattamenti in famiglia durante il lockdown tra il 1 marzo e il 16 aprile sono diminuite del 43,6%, quelle per omicidi di donne del 33,5%, tra le quali risultano in calo dell'83,3% le denunce per omicidi femminili da parte del partner. Nonostante il calo dei reati, durante il lockdown sono state 5.031 le telefonate valide al 15-22, il 73% in più dello stesso periodo del 2019. In 4 casi su 10 le telefonate erano legate a violenza e stalking. in 4 casi su 10 le telefonate erano legate a violenza e al 15-22, il 74% in più di